Il cerro è una varietà di quercia con la foglia leggermente più piccola rispetto alle altre tipo la fagna, il rovere eccetera che troviamo prevalentemente nelle zone di collina. In Altemiglia troviamo più che alto la roverella mentre in Romagna, nelle Marche, così troveremo specialmente in centro Italia il cerro. È una pianta molto longeva, lo troviamo nelle zone sia di bosco ma anche nei parchi pubblici, nei giardini privati perché col tempo diventa una pianta molto majestosa con dei tronchi molto belli. Cerchiamo di piantarla da autunno fino a primavera inoltrata in modo che abbia tempo di radicare in modo da affrontare meglio l'estate. È una pianta che necessita di un terreno declivio oppure una situazione in cui non ci sia il rischio di ristagno d'acqua. Il primo anno due cerchiamo di bagnarla specialmente in estate poi una pianta che se la caverà da sola non ha bisogno di interventi di irrigazioni a salvo siccità veramente straordinarie. Perché dobbiamo scegliere un cerro? Anche questa come quercia è una pianta che viene utilizzata specialmente nei boschi di collina, di bassa montagna, la troviamo un po' ovunque nei terreni anche calcare molto difficili. Quindi il cerro se avete queste situazioni qua è l'ideale se volete un albero molto importante oppure se volete creare un bosco specialmente nelle zone di terreni di pendenza. Grazie! 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 Grazie!